bella tu bella a tutti ragazzi ecco un nuovo video io sono matti arella e oggi sono a fare un video su cioè su una pubblicità diciamo sulla coca cola alla la coca cola molto buona assaggiata compratela vi dico anche dove che si compra si compra da tipo alla coop da tipo la panetteria da tutte le cose quindi io vi consiglio di bevetela e gustatela per tutto il tempo quindi lasciate un like un commento e quindi e la coca cola è buonissima ie